eccoci qua ragazzi questo è il secondo video della carriera rally cross leader rally 2 buonissime qualificazioni la macchina risponde bene sarebbe stato più difficile ma qualche anno di verde e di esperienza aiuta queste cose dobbiamo scendere sotto i 37 secondi questa è la sfida con noi stessi non smette di piovere ma nemmeno a pagare ora partirò primo che è un buon vantaggio nelle semifinali perché un po' di spazio lo abbiamo ci siamo sei macchine invece che mi spavano meno prima cinque andiamo partenze forse prato a farle sto canna e riuscamente casa a metà se c'è il semifinale ci diranno stare in semifinale al solito sto in terra un po' questo tipo di joker ora è la sfida con queste insieme a metà un po' connection perché non c'è il frasi fuori si si è was mi i i i o i i i i i ve l'ho detto ve l'ho detto è stato molto riuscito a dare da la ticocca e non è un caso parecchio per l'ho detto è meglio a vedete ragazzi 3,47 spropositato ok ragazzi ah ha smesso di piovere bene va bene va bene ah no pioggia forte merle luce oh ma meglio eh cosi no andiamo a cambiare stile di guida pronta la finale pronto a primo premio io sì guarda ragazzi proviamo un po' nella partenza quella che mi lascia sempre è è è è è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti